Pensavamo di riscattarci dopo la sconvita contro l'Empoli. Rispetto, ripeto, come ho detto prima, la settimana scorsa è stata una partita diversa. Abbiamo provato fino alla fine, è stata poi... Secondo me nel primo tempo ci eravamo schiacciati un po' troppo. Alla prima occasione che ha avuto il Venezia, ha trovato il gol della domenica, lì ci siamo persi un po', ci siamo un po' demoralizzati. Alla prima occasione ci fanno subito i gol, ci manca un po' di cattiveria perché è quella che in questo momento ci manca. Ora abbiamo un'altra partita tosta, non dobbiamo abbatterci perché se mogliamo in questo momento è finita. Il campionato è ancora lungo, non sono frasi fatte però è la verità. Dobbiamo continuare, togliere le cose negative che in questo momento purtroppo stiamo attraversando e pensare subito alla prossima perché, ripeto, anche a me dispiace, dispiace come tutta la gente. È un momento no, è un momento difficile per tutti. La pressione sta in tutte le piazze e questa è una piazza che è ovvio, con un pubblico così, merita un palcoscenico diverso. Noi siamo professionisti quindi pressione non ce ne deve essere. Noi dobbiamo giocare, come dicono i tifosi, con il sangue agli occhi, se vogliamo fare il stato di qualità. Però in questo momento purtroppo hanno ragione loro, non dico che non ci sta venendo perché, ripeto, rispetto alla settimana scorsa c'è stata una reazione. Purtroppo alla prima occasione ora ci fanno subito i gol. Non è successo niente perché io non ho avuto mai problemi né con la società né con il mister. Ha fatto delle scelte e io da professionista li accetto zitto perché non sono nessuno. Devo soltanto pensare al campo, allenarmi bene, per il bene della squadra e per il bene di tutti. Io non ho nulla contro nessuno. Sono delle scelte che ha fatto il mister e le accetto. Ancora una volta ci hanno dimostrato il loro amore per questa maglia. A me mi dispiace tantissimo, credetemi. Ci soffro anche io, come tutta la squadra. Speriamo da sabato di dargli una gioia. È un problema, penso, di testa perché è quello che fa la differenza alla fine. Ci andiamo noi in campo, non è un problema fisico. Ripeto, ci è mancata quella cattiveria per portare a casa meno un risultato positivo. Ci hanno fatto gol su due palle inattive, l'altro ha trovato il gol della domenica. Quindi quello che ci manca secondo me, ripeto, è sempre la stessa parola, la cattiveria. Perché è quella che è fondamentale. È fondamentale se vuoi vincere questo campionato, se vuoi vincere queste partite. Perché comunque oggi il Venezia ha dimostrato che è un'ottima squadra. Poi sul 3-0 è difficile fargli golle perché è una grandissima difesa, sono strutturati bene e poi quando vanno in vantaggio è difficile recuperare.